Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini, per la direzione sportiva lascio la parola a Morgan Le Santis. Buon pomeriggio, benvenuti. Presentiamo oggi Gianluca Mancini. Gianluca è un difensore giovane, è italiano, è già nel giro nazionale, ha tutte le caratteristiche che cercavamo nel difensore, sa difendere, sa impostare l'azione. L'anno scorso ha dimostrato anche di avere capacità di finalizzazione importanti. Siamo convinti che abbia ancora grandi margine di miglioramento, per questo abbiamo investito tanto su di lui. Quindi a voi la possibilità di togliervi tutte le curiosità. Grazie. Paesano, Roma Radio. Grazie. Dal punto di vista tattico, che cosa ti ha chiesto Fonseca in questi giorni e se c'è un compagno che ti ha impressionato di più in questi primi allenamenti? Grazie. Il mister mi ha parlato e mi ha detto un po' delle situazioni tattiche che bisogna sviluppare in campo, soprattutto per noi difensori, essendo un difensore. E niente, difesa alta, grande pressing, ma anche grande circolazione di palla e sapere impostare il gioco dal basso. I compagni, ce ne sono tanti che mi hanno impressionato, perché è una rosa molto forte e compagni molto forti. Se ti devo fare un nome, Colorov mi faceva impressione quando vedevo le partite, ma allenandosi insieme ancora di più. Giannini, Roma TV. Ciao Gianluca, buongiorno. Lo scorso anno è stato quello della tua esplosione. Anche se sei ancora giovanissimo, ti senti arrivato alla maturazione tecnica e agonistica? Assolutamente no, perché sono molto giovane, ho ancora da fare molta strada. Sono all'inizio dell'anno scorso, ho fatto un buon campionato, però c'è tanto tempo per migliorare. Sono contento di stare qui e di migliorare con i miei compagni e con il nuovo misto. In cosa Gianluca dovresti migliorare secondo te? In tante cose, nella rapidità, nell'essere un po' più veloce, nelle marcature, a volte anche a zona, essendo abituato a marcare a uomo. Ho caratteristiche dove mi sento magari a mio agio e in altre caratteristiche so che devo lavorare molto. ti chiedo un'ultima cosa, perché hai la 23, sappiamo bene la tua storia, ereditata da Materazzi, che è sempre stato il tuo... è acceso il microfono, no? Eh, allora che cosa devo accendere. E ti volevo chiedere questo. Materazzi diventa campione del mondo con De Rossi. Con De Neri non ti sei incrociato, vi siete solo sfiorati, no? Va via lui e arrivi tu. Per un giovane come te, del 96, quindi 23 anni, la carriera di De Rossi cosa rappresenta? Ma la carriera di De Rossi non la devo raccontare io, perché lo seguivo quando avevo dieci anni. L'ho visto vincere il mondiale e poi tutto quello che ha fatto è un qualcosa di straordinario. Essere in questo club dove lui ha passato tutta la sua vita sportiva, possiamo dire. È un motivo d'orgoglio, è un motivo per fare in più e per ronare al meglio la maglia. Vi ha ancora il tempo. Ciao Gianluca, benvenuto. Tu a gennaio sei stato vicino alla Roma, ci puoi spiegare meglio se è stata una tua scelta quella di rimanere a Bergamo per continuare un percorso di crescita oppure c'era la disponibilità anche per venire già a gennaio? Grazie. A gennaio c'erano state delle chiacchierate, ma poco di concreto. Io sinceramente trasferirmi a gennaio non era mia intenzione, perché per rispetto all'Atalanta volevo rimanere lì e finire la stagione lì. Quindi è una semplice chiacchierata che non è andata. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Ciao, eccomi qui. Spinazzola nella conferenza e presentazione ci ha detto che Fonseca gli ricorda per filosofia, per modo di giocare, in alcune cose Gasperini. Ecco, tu che conosci anche Gasperini e che hai iniziato a conoscere Fonseca. Per te ci sono dei punti di contatto, anche se mi rendo conto degli allenamenti, sono pochi comunque quelli che hai fatto. Sì, io ho il quinto allenamento che ho fatto con il mister, però già dall'inizio sì, posso dire che è vero. Qualcosa rivedo in Gasperini. Poi è chiaro, ognuno ha le sue idee di calcio diverse, uno chiede una cosa, il mister Fonseca ne chiede altre, però come intensità, come dispendio fisico, molto. Grazie. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Sì, ciao, buonasera. C'è stato mai il dubbio di lasciare l'Atalanta, nella quale hai fatto parte di un progetto ed aveva raggiunto il traguardo storico della Champions per venire alla Roma, dove fino a pochi giorni fa, fino alla scorsa settimana, non si sapeva neppure se faceva i preliminari di Europa League oppure no. E poi nel passaggio tra dall'Atalanta alla Roma, molto spesso i giocatori che vengono dall'Atalanta e vanno in altre squadre hanno difficoltà. Si dice perché Gasperini accompagna i suoi giocatori in campo tenendoli per mano fino al momento che scendono in campo e poi dopo magari se vanno da altre parti si smariscono. Ecco, questi pensieri li hai fatti quando sei venuto alla Roma? No, allora, innanzitutto a Bergamo ho passato anni bellissimi. Il dubbio di venire a Roma da quando il mio procuratore mi ha contattato e mi ha detto che la Roma mi voleva, non avevo nessun dubbio perché vestire questa maglia per me, come ho detto prima, è un motivo d'orgoglio e ripaga tanti sacrifici che ho fatto da quando ho cominciato a giocare. Per la seconda domanda, sì, magari il mister ti prepara al meglio. Quindi all'Atalanta eravamo un blocco unico che scendevamo tutte le domeniche alla perfezione. Io non ti posso rispondere, solo che darò il massimo per questa maglia e spero di raggiungere grandi risultati. Morrone, La Repubblica. Ciao Gianluca, volevo chiederti se dovessi descrivere il modo di difendere di Fonseca, come lo descriveresti? Che cosa chiede in particolare a voi difensori nei movimenti? Io ho fatto pochi allenamenti finora, però come ho detto prima, il pressing, stare alti con la linea, non avere paura di rimanere alti. Noi magari eravamo abituati, dico un po' in Italia, a scappare quasi sempre. Lui ci dice non avere paura, rimanere alti per far ragionare il meno l'avversario. E poi, man mano che vado avanti, cercherò di capire ancora qualcosa in più. Conforti, Centro Suono Sport. Ciao Gianluca, hai già fatto una telefonata a Mr. Gasperini dicendogli comunque cosa si sta perdendo qui a Roma? Non ho capito, scusa. Hai già telefonato a Mr. Gasperini dicendogli comunque cosa si sta perdendo qui a Roma? No, ci siamo sentiti, mi ha fatto in bocca al lupo e io ho fatto l'in bocca al lupo al Mist. Rocchetti, Tele Radio Stereo. Ciao, eccomi. Qui. Gianluca. Ciao, ti volevo chiedere cosa ti piace di più della filosofia di gioco di Fonseca? E dato che Roma è una piazza comunque importante, se senti di avere la giusta personalità per fare il titolare da subito con la maglia della Roma, anche se hai 23 anni? Quello che mi piace del mister è non avere paura di giocare palla anche dal basso. Come ho detto prima, io lo vedo anch'io un po' il calcio aggressivo, alto, andare a prendere gli avversari senza timore, perché mi sento magari doti che ho. Pressione, io veramente nel mondo del calcio pressione ci deve essere, ma giusta, positiva, non la pressione di sbagliare, perché facciamo il mestiere più bello al mondo. Io faccio parte di una squadra fantastica e quindi pressioni positive. Facciamo l'ultima, De Angelis, Rete Sport. Buonasera, benvenuto Mancini. Allora, approfitto anche della sua schiettezza per chiederle, il passaggio dalla difesa 3 alla difesa 4 può essere così problematico per un difensore oppure è solo una leggenda metropolitana? E poi a questo punto le chiedo anche quale sarebbe il suo compagno di difesa ideale, che caratteristiche dovrebbe avere? Poi se è possibile vorrei chiedere una cosa a De Sanctis. E' relativa all'operazione che ha portato Mancini alla Roma? Sì. Allora, il cambiamento da difesa 3 a 4, ho avuto la fortuna di stare anche nazionale e di averlo fatto prima dell'Atalanta, quindi sono abituato anche a giocare a 4. Magari all'inizio ci può essere qualcosa, però sta da parte mia capire subito le cose che vuole il mister e impararle velocemente. E' un compagno ideale, che caratteristiche dovrebbe avere? Ma sono tutti forti, almeno quello che ho visto Juan e Fazio, che nel momento sono due grandissimi giocatori, devo solo imparare e migliorare da loro. Poi su questo deciderà come sempre il mister. Per quanto riguarda Morgan De Sanctis, in riferimento all'operazione che ha portato Gianluca Mancini alla Roma e alla scelta che si è fatto anche di puntare molto sugli ingaggi dei calciatori, sul tipo di ingaggio da dare, se è una strategia per evitare clausole recessorie oppure se è stato semplicemente un metodo di convincimento per portare Gianluca e altri giocatori qui? Tutto rientra in un progetto condiviso sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Noi sappiamo anche che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale e poi insomma tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presente parametri tecnici e parametri economici. Quindi non è niente di improvvisato. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.